cari amici ben ritrovati con un nuovo video sui quiz di logica proseguiamo sul modello di quelli visti recentemente quindi prendiamo spunto dalla banca dati dell'agenzia delle dogane perché secondo me sono esercizi che si vedranno molto spesso nei vari concorsi che faranno nel corso del tempo e quindi imparare bene questa tipologia di esercizi visto che di fatto visto che di fatto la società che li fa e poi sempre la stessa vi può essere molto utile per risolvere un po tutte le tipologie di quiz e partecipare a tutti i concorsi con una buona base di preparazione per le prove oggettivo attitudinali quest'oggi volevo vedere con voi sei esercizi che sono dal 114 al 119 che sono molto simili tra di loro con piccole sfumature diverse ma una volta che si riesce a capire come andare a risolvere poi si fa anche abbastanza velocemente a risolverli quindi non sono esercizi che richiedono tantissimo tempo e che magari durante il concorso quando sia un po più agitati qualcuno può dire magari non lo faccio perché tanto è troppo lungo e quindi preferisco concentrarmi su altri in questo caso invece sono piuttosto veloci quindi andiamo a vedere senza fare ulteriori giri di parole come risolverli allora partiamo come dicevo dal 114 ci viene detto che tre persone leggono due libri in un giorno quanti lettori ci vogliono per leggere 12 libri in due giorni allora so che nei concorsi più recenti non si può usare la penna non si può scrivere niente ma si deve fare solo il concorso sul tablet però giusto per capire il procedimento che seguiamo voglio scrivere due cose ma molto schematiche allora tre persone quindi mettiamo un 3 leggono due libri in un giorno quanti lettori ci vogliono quindi questa è la nostra x per leggere 12 libri in due giorni quello che è utile fare è rapportare allo stesso numero di giorni perché prima ne abbiamo uno di giorno e poi passiamo due per portare lo stesso numero di giorno di giorni dividiamo quindi per due perché per arrivare a uno quindi dividiamo e allo stesso modo dividiamo per due anche il numero dei libri che diventano quindi 6 a questo punto noi sappiamo che i giorni sono uguali perché abbiamo un giorno sopra e un giorno sotto è come se qua avessimo messo un giorno ci sono tre volte libri nella seconda parte quindi se prima erano due diventano sei in triplo per trovare la nostra soluzione quindi non facciamo altro che andare a triplicare anche la prima colonna quindi 3 per 3 fa 9 e con questa semplice proporzione insomma troviamo la nostra risposta esatta quindi semplicemente il primo passo è andare a mettere il numero dei giorni uguali così che con una proporzione si risolve l'esercizio vediamo se possiamo usare questo stesso metodo anche nella domanda 115 quattro persone leggono quattro libri in due giorni quindi mettiamo 4 4 2 sembra uno schema calcistico ma è ciò che ci serve scrivere per semplificare il tutto poi nella seconda riga abbiamo sempre quanti lettori quindi la nostra incognita è sempre legata ai lettori 16 libri in quattro giorni quindi cosa facciamo come detto prima andiamo a mettere i giorni uguale sopra uguali sopra sotto quindi anche qua dividiamo per due stesso discorso qua e quindi ora che abbiamo i giorni uguali quindi siamo a posto vediamo che sotto abbiamo il doppio dei libri di sopra quindi allo stesso modo le persone saranno il doppio di quelle di sopra quindi 8 8 8 persone leggono 8 libri in due giorni ma ci viene chiesto quante persone quanti lettori 16 libri in quattro giorni e lo stesso discorso diventa comunque 8 perché noi abbiamo fatto la semplificazione ma la risposta corretta è appunto 8 quindi ci vogliono 8 lettori per leggere 16 libri in quattro giorni che come dire 8 lettori 8 libri in due giorni quindi abbiamo risolto anche questa poi passiamo alla 116 se due medici elaborano sei diagnosi in due ore quanti medici sarebbero teoricamente necessari per elaborarne 12 in 7200 secondi allora la prima cosa visto che qua abbiamo due unità diverse perché abbiamo prima le ore e poi secondi trasformiamo i secondi in ore 7200 secondi sono proprio due ore se volete farlo con la calcolatrice ma comunque noi sappiamo che 3600 secondi sono un'ora quindi 7200 è il doppio quindi è uguale allora due medici quindi elaborano sei diagnosi in due ore quindi quanti medici sempre la nostra x 12 in due ore di 7200 secondi famosi il tempo è uguale le diagnosi sotto e il doppio rispetto a sopra perché sono 12 rispetto a 6 stesso discorso qua sarà il doppio di 2 quindi 4 e arriviamo sempre alla nostra risposta poi 117 3 persone producono due automobili in un giorno 3 2 1 quante automobili sono prodotte da 18 persone quindi qua mettiamo un 18 in 6 giorni quindi i giorni sono 6 e la nostra x non è più quante persone insomma sono necessarie ma quante automobili vengono prodotte qui dobbiamo fare un doppio passaggio nel senso che noi sappiamo che in un giorno tre persone fanno due automobili in questo caso però i giorni sono sei volte tanti quindi moltiplichiamo le due automobili per 6 sempre con una proporzione e diventa 12 però al tempo stesso dobbiamo andare a vedere anche le persone che ci sono perché se prima erano 3 adesso sono 18 sono sei volte tanto quindi nello stesso modo andiamo a moltiplicare 12 per 6 che fa 72 e quindi la nostra risposta corretta anche in questo caso è la A quindi in questo caso c'è una doppia moltiplicazione perché aumentano sia i giorni da 1 a 6 ma anche le persone da 3 a 18 perché se le persone fossero rimaste 3 avremmo solo avuto 12 automobili in 6 giorni visto che erano 2 in un giorno ma aumentando anche le persone chiaramente si lavora più velocemente poi ancora la 118 e la 119 vediamo in questo caso nella 118 3 persone producono due automobili in un giorno quindi 3 2 1 in quanto tempo quindi la x diventa qua 9 persone producono 6 macchine allora qua cosa facciamo riduciamo ai minimi termini anche qua perché di fatto dividendo tutto per 3 le persone e le automobili troviamo lo stesso la stessa x di sopra quindi riducendo la x diventa 1 in questo caso quindi in un giorno 9 persone producono 6 macchine infine andiamo a vedere l'ultima 3 persone producono 4 automobili in un giorno quante automobili sono prodotte in 6 giorni da 20 persone qui è lo stesso giusto questo discorso che abbiamo visto poco sopra bisogna nella 117 bisogna calcolare sia che aumentano le persone sia i giorni quindi in questo caso essendo i giorni 6 andiamo a moltiplicare le nostre automobili per 6 quindi diventano 24 e poi allo stesso modo le moltiplichiamo anche per le persone quindi facciamo 24 diviso 3 per 20 quindi 24 diviso 3 che erano le persone iniziali fa 8 per 20 fa 160 perché 8 per 10 80 per 2 è 160 quindi la nostra risposta corretta è la b e e e e e